Sarà il Festival delle Eccellenze Calcissiche Tarantine. Si svolgerà domani sera alle 21 presso l'Ella Sarena di Faggiano, il Gran Galà del Calcio. L'Oscar del Football Tarantino coinciderà con l'inaugurazione dello Sport Café della Struttura Sportiva. Ideatore della manifestazione è il patron dell'Ella Staranto, Gianni Occhinegro, che abbiamo intervistato. Noi abbiamo organizzato con la nostra equipe, con il nostro team, una festa per il calcio e l'abbiamo denominata Gran Galà del Calcio delle Eccellenze Pugliesi, dove vogliamo creare un incontro tra tutte le amicizie calcistiche della provincia di Taranto per confrontarci e soprattutto per selezionare, per premiare chi, diciamo un po' più con impegno rispetto ad altre situazioni, è riuscito ad emergere in quest'anno calcistico. Nel corso della serata saranno premiati la squadra rivelazione, il top player all'eccellenza tarantina fuorisede, il premio alla carriera, la società fair play, il miglior dirigente di prima squadra e giovanili, il miglior allenatore di prima squadra e settore giovanile e il miglior arbitro. Premieremo i top player della provincia di Taranto, premieremo le eccellenze tarantina fuori Taranto, premieremo dei riconoscimenti per quanto riguarda chi si è distinto nel settore giovanile, sia come allenatore che come dirigente, chi ha fatto del fair play calcistico una filosofia ed una linea di condotta a livello gestionale, daremo dei premi alla carriera, dei premi ai giornalisti, sarà una festa importante, dove dal Taranto Football Club alle scuole calcio saranno invitate per premiare chi dà lustro a questa nostra provincia che purtroppo quest'anno dopo la debacle di due o tre società ci ha visto ancora retrocedere a livello calcistico come importanza a livello nazionale. Quindi, come si suol dire, l'unione fa la forza, vediamo di unirci tutti quanti, di collaborare, di partire con un progetto che sia quello di una longeva visione del calcio nella provincia di Taranto e quindi cercare una condivisione calcistica. La manifestazione si concluderà con il concerto gratuito del noto gruppo musicale dei Vasconnessi.